Esplode una bombola all'interno di un casolare di campagna a Calatafimi. Una persona è rimasta gravemente ferita, si tratta di un agricoltore quarantenne residente in paese. L'uomo è stato trasportato con urgenza direttamente al reparto Centro Stioni del Civico di Palermo. Per lui la prognose è riservata, anche se c'è da dire che quando l'ambulanza del 118 lo ha caricato nella barella, era cosciente e quindi questo lascia ben sperare sulle sue condizioni. L'esplosione è accaduta all'alba di oggi in una casa rurale che si affaccia sulla Statale 113, nel tratto che collega il paese a Trapani, un enorme boato che è stato sentito anche da alcuni vicini di casa. Immediatamente è stato lanciato l'allarme al centralino dei vigili del fuoco, del distaccamento di Alcamo e alla stazione dei carabinieri. Il quarantenne è stato trovato ustionato in diverse parti del corpo e subito quindi trasportato al nosocomio palermitano. Nel contempo i pompieri, dopo aver messo in sicurezza la bombola esplosa e tutta l'aria attorno, hanno provveduto a domare il fuoco che aveva avvolto buona parte dell'abitazione. La bombola sarebbe esplosa dalla piccola cucina che si affaccia sulla veranda. I danni sono stati ingenti ad andare quasi del tutto distrutta la cucina e una stanza attigua con serie ripercussioni anche alla copertura dell'immobile. I pompieri, a conclusione del sopralluogo effettuato in tutta la casa, hanno dichiarato il casolare non agibile, per questo transennato. Seriamente danneggiata anche l'auto che era posteggiata proprio nella zona attigua da dove è avvenuta l'esplosione. Ad indagare i carabinieri che sono in attesa dei risultati dell'azione ispettiva dei vigili del fuoco, da capire motivi che hanno causato l'esplosione, se è un malfunzionamento della bombola, oppure un'azione avventata dello stesso proprietario dell'immobile o ancora la mancata manutenzione dell'impianto della cucina.